La Casa Italiana Zerili Marimò è stata fondata nel 90 da una donna italiana, Mariuccia Zerili Marimò, che l'ha creata proprio per dare un dipartimento indipendente di italiano a questa grande università, che è la più grande università privata degli Stati Uniti, e anche per farne un centro per la promozione della cultura italiana. Stasera abbiamo avuto la fortuna di ospitare il Ministro dell'Università della Ricerca e dell'Istruzione della Repubblica Italiana, Stefania Giannini, e l'impostazione che avevamo dato a questo dibattito era di mettere a confronto questi due sistemi educativi. che sono diversi, hanno alcuni aspetti a comune, ma che possono imparare veramente molto uno dall'altro. E credo che anche dal tono delle domande che c'erano, dalla grande presenza di studenti, ricercatori e professori italiani in sala, che abbiamo raggiunto lo scopo. Non è che si sono risolti dei problemi, però si è cercato di esporli, di capirli e di vedere le cose che possiamo fare meglio da tutte e due le parti dell'Atlantico.